in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio casi 24 minuti e 250 violenze carnale al giorno con sei il male e io sono la cura cobra giovedì 21 maggio 20 e 30 su rete 4 allora no hombre che quieres vaffanculo che coño quieres ma sei proprio stronzo mi ha rovinato la macchina via mando hace pagar gli spinelli fanno male e a ti che coño ti importa buzzi vatti a lavare